Musica Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale YouTube Oggi andremo ad effettuare insieme l'unboxing del mio nuovo processore Un Intel Core i5-4690 con socket 1150 Il seguente processore è acquistato su Amazon Perché sto assemblando un nuovo computer per effettuare rendering e video editing a livello professionale Andiamo insieme ad effettuare il vero e proprio unboxing Apriamo questa scatola Possiamo vedere qui il sigillo Vediamo se riusciamo a rimuoverlo con le mani Ma mi sa che ci dobbiamo aiutare con una forbice Io cercherò di essere il più delicato possibile Ecco fatto E andiamo ad aprire Nel mio canale YouTube potete già vedere che ho effettuato l'unboxing del case Dell'alimentatore, della scheda madre e del kit Devastator di tastiere e mouse meccanici Andiamo adesso a vedere cosa c'è nella scatola del nostro processore Boxed Estraiamolo con delicatezza e possiamo trovare Un manuale Del processore stesso Che ci dice la garanzia, il logo dell'Intel eccetera eccetera Qui troviamo un adesivo da poter mettere nel nostro case Sto vedendo che il manuale è sigillato Non so se dalla camera è riuscito a vederlo Ma c'è un sigillo trasparente qui Vediamo, andiamo ad aprirlo Sono curioso di vedere cosa c'è scritto nel manuale Ci vediamo al solito con le unghie Sempre il più delicatamente possibile Non capisco poi perché hanno messo questo sigillo sulla carta Ah, anzi non si è distrutta Strano Vabbè, rimuoviamolo Cerchiamo di non rompere il manuale Ah, a posto, fatto E andiamo a vedere cosa c'è nel nostro manuale Vabbè, ovviamente è multilingua Questo processore inteso per essere installato professionalmente Andiamo a vedere Vabbè, spiega Ah, ecco Spiega un attimo come andarlo ad installare Sulla scheda madre Con le immagini Comunque non è un lavoro così difficile, ecco Come installare il dissipatore E qui ci saranno le caratteristiche tecniche Del, appunto, del processore Andiamo a mettere da parte il nostro manuale E vediamo quello che a noi più interessa Allora, questo è il dissipatore della nostra CPU Dissipatore, ovviamente, è in tella anch'esso Ho letto in internet varie recensioni positive Dicono che questo dissipatore lavori molto bene affiancato a questo processore E dicono anche che sia molto silenzioso Vedremo a computer attivo se corrisponde alla descrizione che ho trovato in internet Andiamo ad estrarre ora il vero e proprio processore La nostra CPU Eccola qui, è caduta dentro, meno male Qui abbiamo la nostra CPU Non so se ora dalla cam si legge, ma credo di no Vabbè, riporta comunque le caratteristiche tecniche È made in Vietnam È un Intel Core i5-4690 3,50 GHz di frequenza Una cosa che comunque sto notando E che mi aspettavo di trovare dentro la confezione È la pasta termica Ma a quanto pare non è presente nella confezione Se non è questa Che ho toccato adesso col dito Ecco Sembra sia già applicata Io gli ho messo maldestramente il dito sopra Ma vabbè, non dovrebbe succedere nulla Ragazzi Se decidete di acquistare questa CPU Questo è quello che vi arriverà a casa Spero che l'unboxing e il video vi siano piaciuti Potete benissimo lasciare un mi piace al video Iscrivetevi al mio canale YouTube E mi raccomando, condividete ragazzi Per oggi è tutto Ci vediamo alla prossima